Buongiorno appassionati di calcio e benvenuti su top sport news. Siamo qui ancora una volta per portarvi le ultime novità legate al Napoli. Prima di entrare nei dettagli di questa entusiasmante notizia voglio sottolineare il nostro continuo impegno nel migliorare e fornire sempre più notizie aggiornate. Pertanto vi chiedo di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Insieme siamo una forza imbattibile quindi mettiamoci al lavoro. Il mercato è sempre un momento emozionante e la dirigenza del Napoli sta lavorando duramente per migliorare la rosa. Una delle notizie che circolano dietro le quinte riguarda la possibile acquisizione di Georgi Sudakov, una promessa del calcio ucraino. Classe 2002 si è messo in luce con lo Shakhtar Danetsk. Tuttavia la sua storia è segnata da sfide personali, inclusa la necessità di vivere in un rifugio antiaereo con sua moglie durante un periodo teso a Kiev a causa dell'invasione dell'esercito russo nel 2022. Questa storia di resilienza e superamento ha toccato il cuore di molti, così come la sua impressionante prestazione per la squadra ucraina under 21 agli europei. Il nome di Sudakov è stato nell'elenco di diversi club importanti, tra cui anche la Juventus. Il Napoli, sotto la gestione di Cristiano Giuntoli, aveva già mostrato interesse per il giocatore lo scorso inverno e continua a seguirlo da vicino. La domanda che resta è, voi, tifosi napoletani, cosa pensate della possibilità di vedere Georgi Sudakov indossare la maglia del Napoli? Sarebbe un'aggiunta entusiasmante al nostro cast. Lascia i tuoi commenti qui sotto e condividi le tue aspettative. E non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al canale, così potremmo continuare a portarti le notizie più interessanti dal mondo dello sport. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo nel prossimo video!